Prima prova scritta di italiano, che tema hai scelto e come è andata? Allora io ho scelto il tema socio-economico e è andata abbastanza bene, comunque le tracce non erano semplici, soprattutto ho notato che la prova di analisi del testo presentava un autore sconosciuto a molti e ci siamo guardati tutti per dire ma chi è quest'autore? Giorgio Caproni è un autore che nessuno si aspettava, quindi in poi l'hanno scelto? Sì, infatti fra i miei compagni penso nessuno. Te che tema hai scelto? Anche io ho scelto il socio-economico, la tipologia B, ma fortunatamente noi facciamo diritto, quindi era un argomento che si ricollegava anche abbastanza bene. Spero sia andato bene, credo comunque un punteggio perlomeno decente di averlo fatto. Qual era il tema dell'ambito socio-economico? Delle tecnologie in ambito lavorativo e dello sviluppo comunque dei paesi, soprattutto quelli più arretrati. Come sarebbe stata l'introduzione di questa all'interno del paese? Ecco domani la seconda prova, quindi oggi pomeriggio si torna a studiare. Sì, io faccio il liceo musicale, quindi avrò la prova di teoria, analisi e composizione e probabilmente sarà molto dura. Essendo il primo anno che c'è il liceo musicale a Siena, nessuno sa come andrà questo esame e cosa potrà presentare il ministero. La prova più temuta? La seconda prova, che sì, oltretutto per noi dura due giorni perché facciamo anche la prova di strumento, ma quella è più tranquilla. Mentre per te? Io faccio l'economico-sociale ed è diritto la seconda prova. Personalmente sono abbastanza tranquilla perché è una materia che mi piace. La più temuta è la terza, perché ci sono materie come matematica che proprio non si sfangano in nessun modo. Ecco, a breve puoi finire la maturità, per il prossimo anno? Ancora non lo so, ma penso di continuare nell'ambito musicale. Io a giurisprudenza. Prima prova scritta di italiano, come è andata e che tema hai scelto? Dunque, ho scelto il tema di ordine generale perché era il più semplice, diciamo. Niente, speriamo bene. Che scuola fai? Faccio il piccolo mini liceo economico-sociale. E domani la seconda prova, stasera a studiare? Eh sì, per forza. Fino all'orale si studia tutti i giorni. Qual è la prova che temi di più? La terza prova. Che avrete lunedì? Sì. Qual è stato il tema più gettonato? Eh, credo il saggio breve. Che l'ho vista l'analisi del testo, era molto difficile, è capitato un autore che non vi aspettavate? No, no. Io sinceramente non mi aspettavo niente, però ho visto tutti quanti hanno scelto il saggio breve. Però io ho scelto quello di ordine generale, così ho fatto prima. Tra poco finisce la maturità e poi per il prossimo anno, sai già cosa fare? Eh sì, l'università, quale di preciso ancora non lo so, però dopo la maturità scelgo. Bocca al lupo. Come è andata e che tema avete scelto? La tipologia di andata, spero bene, sinceramente, sarei abbastanza contento via. Su Giorgio Caproni, analisi del testo, l'aspettavate? No, perché tutti dicevano più grandello, ma tanto l'avrei saltata comunque l'analisi del testo, quindi... Qual è stato il tema più scelto nella vostra classe? Sinceramente non lo so, perché molti stanno ancora facendo la prova, quindi non lo so. Dunque pensi il saggio breve rispetto all'analisi del testo? Sì, sì, penso all'analisi del testo, ma non l'abbia scelta quasi nessuno, credo nessuno comunque. E per domani che vi aspetta? La seconda prova di diritto e ci aspetta la prova economica di diritto, si spera più facile, più prevedibile. Qual è la prova più temuta? Forse i quesiti, i quesiti della seconda prova e la terza prova. Finita la maturità per il prossimo anno? Avete già deciso a che fare? Sinceramente no. Università sicuramente, forse medicina. Prima prova scritta d'italiano, che traccia avete scelto e com'è andato? Argomento storico, il miracolo economico. Sapevamo quello, ci eravamo preparati in particolare sulla storia, avevamo preso le date, quelle centrali, quindi rivoluzione russa, il discorso sulla nascita dell'Unione Europea e quindi diciamo riguardava anche il miracolo economico. L'abbiamo fatto veloci. Anch'io ho fatto lo stesso, sera studiavo questo, quindi siamo stati anche fortunati. E sull'analisi del testo, questo autore, una sorpresa? Io non l'ho mai che guardato perché ho letto il nome dell'autore e non si conosceva, quindi si è saltato. Abbiamo guardato l'argomento storico, si conosceva, si è chiuso tutto il resto e ci siamo impegnati a fare quello. Domani, seconda prova matematica? Speriamo di copiare. Quella è messa male male, lui non ci si mette le mani, si spera di copiare, se no quella è male. Quindi la prova più temuta è la seconda? Sì, la seconda prova è un casino. E dopo la maturità avete già deciso a che fare? Io economia. Storia e filosofia. Che tema hai scelto e com'è andata? Il saggio breve di ambito socio-economico. Speriamo bene. E sull'analisi del testo con questo autore che pochi conoscevano? L'ha completamente saltato, non l'embrero letto. Anch'io saggio breve ambito socio-economico e spero sia andata bene. E avevo letto anche l'analisi del testo e non richiedeva una conoscenza dell'autore, però non era per me, diciamo. Domani, seconda prova di matematica? Sì, speriamo bene, ancora meglio dell'altra. La più temuta? Sì, la peggio di tutte e tre. Per te? Eh, abbastanza, anche perché sono un po' in difficoltà. Dopo la maturità già ha deciso che farete? Ancora niente. Niente, niente. Ora si pensa a passare qui, intanto. Grazie. Grazie.